2Night Awards, gli Oscar della notte di 2Night Noi abbiamo delle serate che sono selettive in base al genere musicale, electro, indie rock, dark e wave e le caratteristiche è che è un club che seleziona molto la qualità dei DJ, dei artisti che partecipano alle serate e da 36 anni che si occupa di questo settore Li ringraziamo sentitamente perché è anche un segnale della fedeltà che hanno nei confronti del locale che opera veramente da tanti anni e non si ferma neppure di fronte alle difficoltà che stanno avendo molti locali in questo momento